Buon pomeriggio, benvenuti al TG2000 Flash. Le condizioni per il cessato del fuoco in Ucraina non sono ancora mature, nonostante le posizioni delle due parti dopo i colloqui di due giorni fa a Istanbul si siano avvicinate. Lo ha detto oggi il Premier Draghi, incontrando la stampa estera dopo la telefonata di ieri con il presidente russo Putin. Draghi ha aggiunto che l'Italia è stata richiesta come garante sia dalla Russia che dall'Ucraina. Nella telefonata tra Draghi e Putin si è parlato anche della necessità di garantire corridoi umanitari soprattutto per evacuare le decine di migliaia di persone intrappolate ancora a Mariupol, città praticamente rasa al suolo dopo un mese di assedio da parte dell'esercito russo. Per il momento sembra reggere la tregua, almeno 17 pullman carichi di gente sono riusciti a lasciare la città in sicurezza. Il Senato conferma la fiducia al governo sul decreto ucraina con 214 voti favorevoli, 35 contrari e nessuno ha stenuto. In aula durante la discussione sono spuntati cartelli con la scritta no soldi per armi. Con l'approvazione del decreto verrà certificato anche l'ordine del giorno approvato alla Camera che dà via appunto all'aumento delle spese militari fino al 2% del PIL ma in un arco temporale lungo anni. Il Consiglio dei Ministri ha reso note le date della prossima tornata di elezioni amministrative ma anche del referendum domenica 12 giugno. Si voterà sia per il primo turno delle comunali sia per la consultazione popolare sulla giustizia. Per le amministrative gli eventuali ballottaggi si terranno due settimane dopo il 26 di giugno. Oggi dopo due anni Italia dice addio allo stato di emergenza e da domani cambieranno ancora le regole anti-Covid. Un graduale allentamento delle restrizioni a partire dal Green Pass che non sarà più necessario per andare dal parrucchiere in banca, negli uffici pubblici o dal tabaccaio. Stop al certificato verde anche per salire sui mezzi pubblici, per entrare nei ristoranti all'aperto, nei musei, nei centri termali e culturali. Resta invece il Green Pass base per accedere ai luoghi di lavoro almeno fino al termine di aprile quando verrà definitivamente congedato. Anche in Italia come in altri paesi europei continua la fiammata dei prezzi complici i rincari dell'energia ora alimentati anche dalla guerra. In Ucraina a marzo comunica l'Istat l'inflazione ha accelerato per il nono mese consecutivo raggiungendo un livello del 6,7% che non si registrava dal luglio del 1991. A spingere in avanti l'inflazione appunto l'aumento dei costi dell'offerta energetica ma non solo, a pesare ci sono anche i prezzi cresciuti di alimentari e quelli dei prodotti per la cura della casa e della persona. L'Italia del calcio fuori dai prossimi mondiali o forse no? Esclusa sul campo dopo la sconfitta nello spareggio con la Macedonia del Nord la nazionale di Mancini potrebbe essere ripescata per la prossima Coppa del Mondo che si disputerà in Catara l'autunno prossimo. Una wild card da concedere ma sarà sempre la FIFA ad avere l'ultima parola ai campioni d'Europa se l'Iran dovesse essere escluso dopo aver impedito alle donne con biglietto pagato di assistere alla partita contro il Libano. E con questo è tutto, vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione come sempre alle 18.30, grazie per averci seguito, arrivederci.